dai tecnici audio del pluripremiato senza parole dal premio oscar per miglior sceneggiatura di parole confuse dal tre volte vincitore del gremmy per il miglior album con rap al vento ho la peppa gialla che non sa di galera la violenza proprio non mi piace bro con irene e viola grazie Signora, signora.